Le panchine della piazza di Sirolo si godono per ora l'azzurro in solitaria in attesa della partenza vera della stagione turistica che per il mare ha il suo avvio ufficiale a Pasqua quest'anno il 16 aprile. Sulla riviera del Conero le belle giornate di sole incoraggiano operatori e ristoratori. Qualcuno ha aperto la serranda proprio in mattinata, mentre c'è chi rimetta nuovi Deor in attesa di temperature più dolci e di aperitivi en plein air. La grande incognita saranno le prenotazioni. L'effetto sisma potrebbe farsi sentire anche qui, a più di 100 chilometri di distanza dai centri più colpiti. A ottobre già si stimava un calo del 36% dei turisti stranieri, secondo i dati elaborati dalla Col Diretti su statistiche della Banca d'Italia, anche nelle zone fuori dal cratere. E' importante stato il numero delle disdette dopo agosto e in autunno, ma la partenza di Sirolo appare piena di fiducia. Magari per paura, anche se qui poi non succede niente, però la gente purtroppo quando vede la televisione è quello che mostra e quindi di conseguenza ha paura di venire. Noi speriamo che tutto questo non succeda, perché ancora secondo me è presto dire che possiamo avere un calo oppure no. Con l'andare del tempo sicuramente ce ne accorgeremo, speriamo di no. Come tutti gli anni diamo una rinfrescata al locale, ci aggiorniamo per affrontare nuova la stagione, sperando di accogliere sempre più gente qua a Sirolo. Dall'Olanda, dalla Germania, fortunatamente ci gira la Costa Crociere. Si vengono anche qua da... Sì, stranieri. Fortunatamente con il comune e con i camping lavoriamo bene. Noi come ristoratori sinceramente non avvertiamo questo problema. Dopo magari sarà il tempo, noi guardiamo anche molto il tempo, perché se si sa per il tempo la gente viene comunque, nonostante magari i problemi che siano creati in questo ultimo periodo diciamo. Noi siamo ottimisti, abbiamo la prenotazione già per il 25 aprile, il primo maggio, quindi non solo diciamo qui, paesi limitrofi vicino a noi, ma anche diciamo fuori regione, tipo Umbri, Romagnoli, eccetera, eccetera. Ma li chiedono insomma? Chiedono, qualcuno si sente, ma qui sulla Costa sinceramente è abbastanza tranquillo.